Musica Trinità di Sala Consilina, breve l'installazione di semafori intelligenti, effettuato il sopralluogo, prevista l'installazione di una colonnina pedonale. Vallo di Viano, spaccio di droga nei guai un uomo di Padula. Contro la dispersione scolastica, il DL Caivano e fondi dal Ministero, anche nel Vallo di Viano. Atena Lucana, il ballerino Vittorio Ardovino sul palco accanto a Claudio Baglioni nel suo tour a tutto cuore. New York, anche la banca Montepruno ha i festeggiamenti per i 50 anni del Club San Cono di Brooklyn. Eccoci bentrovati al nostro telegiornale. All'incrocio di Trinità di Sala Consilina, a breve dovrebbero partire i lavori per l'installazione di un impianto semaforico intelligente. Ad annunciarlo l'amministrazione comunale di Sala Consilina, che vuole così ridurre i disagi alla circolazione che si registrano in particolari ore della giornata, proprio all'incrocio di Trinità. Una notizia attesa da anni non soltanto a Sala Consilina, ma anche in molte altre aree del comprensorio e negli ultimi anni in particolare per gli utenti di Padula e Sassano, che sono costretti a percorrere la strada provinciale Trinità Silla, attraversando dunque l'incrocio di Trinità di Sala Consilina, dove ormai da anni non era più attivo l'impianto semaforico e che ora sta per essere riattivato, ma con un sistema intelligente. A darne notizia l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cavallone, che ha annunciato l'avvio dei lavori di installazione del nuovo impianto semaforico lungo la SS19 nel punto di intersezione con la strada provinciale del corticato Trinità Silla. In questi ultimi anni, soprattutto a seguito della chiusura del ponte Tanagro, che ha imposto il passaggio per Trinità come percorso alternativo di collegamento tra Sassano e Padula, il traffico veicolare nel punto di incrocio si era notevolmente intensificato, creando in specifiche ore della giornata veri e propri ingorghi ed anche lunghe file, soprattutto per chi proveniva da Silla di Sassano. L'amministrazione comunale di Sala è dunque corsa ai ripari per venire anche incontro alle esigenze dei cittadini e dunque, con un investimento di circa 35.000 euro, ha disposto l'installazione di semafori intelligenti, il cui colore scatterà in base al numero di auto in attesa. L'idea di installare tale tipo di impianto semaforico era già stato previsto da diverso tempo e ora sono state individuate le risorse necessarie e a breve partiranno i lavori di installazione dei nuovi semafori, che saranno realizzati nelle ore notturne a partire dalle ore 20 e 30, al fine di evitare disagi alla circolazione. Con il nuovo semaforo dunque, oltre a prevedere un tempo di durata intelligente per il rosso e il verde, determinato da appositi sensori che si attiveranno in base al volume del traffico, sarà anche possibile per i pedoni chiamare l'attraversamento della strada. Saranno infatti anche installati in prossimità degli attraversamenti pedonali colonnine dotate di un pulsante che consentirà al pedone di fermare il traffico per il tempo necessario di attraversare la strada. Dopo i sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi, a breve dovrebbero partire i lavori con l'installazione e la successiva attivazione dei semafori. E ora la cronaca. Un uomo di Padula è stato trovato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina in possesso di sostanza stupefacente. Continuano le attività di controllo. Da parte dell'arma impegnata nel contrasto all'attività di spaccio sul territorio. Ancora un arresto per droga nel Vallo di Diano. Proseguono incessanti le operazioni da parte dei carabinieri del comando provinciale e sono state intensificate le attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina proprio per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente che spesso vede coinvolti più giovani. Dopo gli arresti avvenuti a Sala Consilina e a Dauletta nei giorni scorsi ora è finito in manetti un uomo di Padula che deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. I militari del nucleo operativo della compagnia salesia lo hanno trovato in possesso di 30 grammi di cocaina e soldi di dubbia provenienza, probabile provento dell'attività di spaccio. È stato arrestato ed è a disposizione della procura della Repubblica. Nell'ambito dei consueti controlli effettuati sul territorio dai militari della compagnia di Sala Consilina nei giorni scorsi erano state effettuate due distinte operazioni che avevano portato all'arresto di tre persone, due uomini e una donna sempre per i reati di detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente. A Dauletta era stato beccato un trentenne trovato in possesso di eroina e materiale per il confezionamento oltre ad un bilancino di precisione. È finito ai domiciliari. Altra operazione simile aveva visto coinvolti due giovani salesi e una coppia di fidanzati che a seguito di controlli era stata trovata in possesso di ascice e marijuana nello specifico e anche per la coppia erano scattati gli arresti domiciliari. Il recente arresto dell'uomo di Padula dimostra che proseguono incessanti le operazioni da parte dei carabinieri del comando provinciale e anche nel Vallo di Diano sono diverse le operazioni che si stanno susseguendo a contrasto dell'uso e dello spaccio di droga. E continuiamo con la cronaca. 33 persone residenti nelle province di Salerno e qui in particolare ad Agropoli, Perdi Fumo e Castellabate, poi Napoli e Lecce, sono ritenute responsabili di truffa gravata con il cosiddetto bonus facciate per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro. L'attività investigativa della Guardia di Finanza di Agropoli è nata dall'analisi di anomale operazioni finanziarie da parte di una neocostituita società di consulenza amministrativa priva di qualsiasi struttura logistico-aziendale di mezzi e di personale dipendente. Creavano fittizi crediti d'imposta sfruttando il meccanismo di funzionamento del bonus facciate. La documentazione amministrativa necessaria per accedere all'incentivo con l'opzione dello sconto in fattura e cessione del credito veniva artatamente predisposta anche attraverso dei professionisti quali geometri e ingegneri, nonché con la consapevole partecipazione dei destinatari dei lavori, tutti ora indagati. La tempestività dell'intervento delle fiamme gialle di Agropoli e della procura di Vallo della Lucania ha permesso di interrompere la circolazione di falsi crediti d'imposta per oltre 10 milioni di euro impedendone la loro futura compensazione in danno dell'erario e ha permesso di sottoporre a sequestro preventivo disponibilità di conti correnti, autovetture e beni immobili per ulteriori 2,5 milioni di euro. Andiamo avanti. È sempre alto l'allarme legato alla dispersione scolastica per contrastarla a soldi e pugno duro in arrivo fondi anche per scuole valdianesi e poi c'è il DL Caivano che prevede misure dure per chi non manda i figli a scuola. I dettagli. È sempre alto l'allarme dispersione scolastica su cui sono accesi i riflettori delle istituzioni per contrastarla in arrivo fondi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in favore delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado delle regioni del sud. A beneficiarne anche in realtà valdianesi, gli istituti scolastici di Montesano sulla Marcellana, gli istituti comprensivi di Buonabitacolo, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano, Teggiano e anche Caggiano sono soldi che serviranno a potenziare l'organico dei docenti, quindi ad aumentare il tutoraggio e anche il tempo a scuola tenendo gli istituti aperti di sera. E contro la dispersione scolastica, non solo fondi. Con il DL Caivano sono previste misure dure, come l'arresto o lo stop al reddito di inclusione per i genitori che non rispettano la legge, saranno i presidi a segnalare i ragazzi, quindi la famiglia, al comune e alla procura minorile dopo dieci giorni di assenza continuata e senza giustifica. Ieri l'ufficio scolastico regionale, insieme con la procura presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, ha tenuto una conferenza dei servizi a cui ha partecipato tutta la scuola salernitana. Allarmanti i dati emersi, negli ultimi mesi alla procura per i minori sono arrivate 400 segnalazioni di inadempienze scolastiche, erano 127 nel 2022. Secondo l'ufficio scolastico, nell'anno 2022-2023 sono stati 1.626 gli alunni bocciati o assenti, ben 248 bocciati per non aver mai frequentato e 578 si sono assentati al 50% delle elezioni. Ora, come sottolineato dal provveditore Minella, le istituzioni scolastiche sono maggiormente coinvolte nel percorso di tutela del minore e i presidi, dopo i primi 20 giorni di scuola, stanno già provvedendo ad un monitoraggio delle presenze in aula. Le coreografie dello spettacolo di Claudio Baglioni in tour con A tutto cuore emozionano e lasciano senza fiato gli spettatori che oltre ad ascoltare l'immensa musica del cantautore possono godersi spettacoli di danza straordinari. Tra i bravissimi ballerini che si esibiscono accanto a Baglioni anche Vittorio Ardovino, giovane di Atena Lucana che già in passato è stato scelto per le coreografie negli spettacoli proprio di Claudio Baglioni. Conclusa la tappa di Roma al Foro Italico, Vittorio Ardovino, giovane ballerino di Atena Lucana, si appresta ora a partire per altre importanti tappe del tour di Claudio Baglioni che raggiungerà nei prossimi giorni le città di Verona, Palermo e Bari. La passione per il ballo, ma soprattutto l'impegno e la dedizione con cui si è applicato nel raggiungimento del suo sogno lo portano ora ad essere scelto da importanti artisti per partecipare a spettacoli di rara bellezza e ad essere lui stesso parte della bellezza che rende magnifiche delle performance artistiche già perfette. Artisti come Claudio Baglioni non lasciano nulla al caso e si avvalgono solo di persone di grandi capacità. È questo un elemento essenziale per far comprendere le capacità e il livello artistico raggiunto dal giovane valdianese Vittorio Ardovino che senza mai tirarsi indietro di fronte alle prove, anche quelle più dure, è riuscito ad affermarsi come ballerino con la consacrazione arrivata già in passato partecipando al tour di Claudio Baglioni e Gianni Morandi, capitani coraggiosi. È oggi confermata con la sua partecipazione al tour a tutto cuore che vede impegnato il noto cantautore italiano Baglioni e partito lo scorso 21 settembre dal Foro Italico di Roma dove è stato poi replicato in totale per sei serate. Vittorio Ardovino sta ora per partire per la prossima tappa a Verona per ballare in uno dei teatri più ambiti del panorama musicale italiano ossia l'Arena di Verona. Esibirsi accanto a Baglioni, dichiara il giovane ballerino valdianese, è un privilegio, ha un'energia e una carica fuori dal comune così come le coreografie di Giuliano e Veronica Peparini che ti permettono di emozionarti e allo stesso tempo emozionare. Sono tre ore di pura adrenalina e sono onorato di farne parte. Il tour, oltre a regalare tre ore di grande musica, emoziona il pubblico proprio per le coreografie dei balli che vengono proposti nel corso del lungo spettacolo e che vedono vittorio tra i ballerini scelti per la tournecchia e richiesto un'intensa preparazione. L'allestimento, ha spiegato Ardovino, è durato un mese. È stato impegnativo, ma le coreografie e la regia sono tutte studiate nei minimi dettagli. Sicuramente esperienze come queste ti portano a ballare davanti a 7-8 mila persone ogni sera e l'emozione che si prova è indescrivibile. Vedere il pubblico così entusiasta per ciò che sta guardando ti dà una scarica di adrenalina che ti fa sentire vivo. Una nuova chiamata dunque per il ballerino di Atena Lucana accanto al grande artiste come Claudio Baglioni dopo che già in passato era stato scelto nel corpo di ballo di una importantissima esperienza musicale che vedeva insieme due dei più grandi artisti della musica italiana di tutti i tempi ossia Claudio Baglioni e Gianni Morandi in Capitani Coraggiosi. Una prima esperienza affrontata con la leggerezza tipica del giovane ma che oggi, come spiega Vittorio Ardovino, vive in maniera diversa e più intensa. La partecipazione a Capitani Coraggiosi spiega fu il mio primissimo lavoro nel 2015 e tornare nello stesso posto, il Foro Italico, dopo 8 anni è stato magico. Quando ero più piccolo non avevo ancora quella maturità per godermi appieno l'esperienza che stavo affrontando ma con gli anni ho imparato ad apprezzare e vivere ogni momento sul palcoscenico. Corleto Monforte ieri sera è stato al centro del programma Porta a Porta di Bruno Vespa sul Rai 1. Il piccolo paese degli Alburni rappresenta un esempio virtuoso in tema di accoglienza dei migranti. Qui c'è il centro di accoglienza straordinaria istituito grazie ad un accordo tra la prefettura di Salerno e il comune che è il primo in Italia a portare avanti un esperimento pilota proprio in materia di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. I suoi 517 abitanti dallo scorso luglio stanno accogliendo nuclei familiari richiedenti asilo e arrivati proprio a Corleto in seguito all'accordo pilota per l'Italia. Porta a Porta ieri sera ha puntato i riflettori sull'esempio virtuoso di Corleto Monforte. E andiamo avanti. Ieri ha ufficialmente aperto l'anno scolastico il centro per l'istruzione degli adulti di Salerno con il taglio del nastro alle nuove aule didattiche ospitati all'interno della sede dell'istituto alberghiero virtuoso. Tanta emozione tra i quasi mille studenti dell'intera provincia di Salerno. Ha ufficialmente aperto l'anno scolastico ieri il centro per l'istruzione degli adulti di Salerno nella nuova sede ospitata all'interno dell'istituto alberghiero virtuoso di Salerno. Non c'è stata certo la corsa tra i banchi che accompagna tradizionalmente il suono della prima campanella ma certamente c'era tanta emozione tra i quasi mille studenti dell'intera provincia di Salerno che affideranno alle ore trascorse a seguire corsi di alfabetizzazione e percorsi di studio di primo livello la loro capacità di integrarsi nella maggior parte dei casi anche per ottenere il permesso di soggiorno. Dalla teoria alla pratica qui l'integrazione si studia e si fa ha rimarcato la dirigente scolastica del CIPIA di Salerno Mariella Montuori che con l'assessore alla scuola del comune di Salerno Gaetana Falcone, la dirigente scolastica del virtuoso ha ufficialmente inaugurato la nuova sede. L'inaugurazione di questo CIPIA in queste sedi dove abbiamo già comunque una sede di istituzione serale e quindi di accoglienza sarà un impulso maggiore per favorire l'integrazione delle persone che vogliono integrarsi ma soprattutto vogliono realizzare il proprio percorso formativo con anche un inserimento all'interno del tessuto lavorativo. Sì, oggi simbolicamente tagliamo questo nastro siamo qui all'interno dell'istituto alberghiero virtuoso perché in seguito alla delocalizzazione delle aule didattiche dall'IC Monterisi comincia una nuova pagina della storia della sede associata di Salerno quindi i ragazzi potranno seguire i corsi ordinamentali qui appunto all'interno dell'istituto alberghiero grazie a una convenzione sottoscritta con la dirigente Ornella Pellegrino. Siamo contenti di questa nuova collaborazione che nasce sempre all'insegna appunto della sinergia sul territorio e nel contempo ringrazio ovviamente l'amministrazione comunale che in tempi brevissimi ha consentito ai nostri alunni di poter cominciare regolarmente le lezioni. Quando la collega Montuori mi ha chiesto ospitalità tra virgolette ho accettato di buon grado anche perché ritengo come già anticipato che l'istituto alberghiero è una scuola inclusiva e in virtù di questa inclusività mi sembrava opportuno continuare e proseguire un rapporto che fosse anche didattico. In realtà l'IPSEOA virtuoso non è altro che secondo me una continuazione quasi naturale quasi logica delle attività che si svolgono nel CIPIA. Nel CIPIA i ragazzi lavorano per competenze lavorano per unità didattiche di apprendimento e chiaramente il naturale proseguimento di queste attività può essere sicuramente una, diciamo, espletarsi nelle attività del nostro percorso di secondo livello nel serale. Ci fermiamo per un po' di pubblicità. Rieccoci di nuovo in studio, ben ritrovati nei giorni scorsi a New York tante persone del Vallo di Diano e soprattutto di Ditegiano per festeggiare insieme ai tegianesi emigrati in America i 50 anni del Club San Cono. Alle celebrazioni ha partecipato anche una delegazione della Banca Montepruno. Il Club San Cono a New York ha celebrato nei giorni scorsi i 50 anni della fondazione. Un compleanno di grande valore che testimonia il profondo attaccamento degli emigrati all'estero per la loro terra natia e il costante mantenimento delle tradizioni religiose e dei legami con il Santo Patrono. Il Club ha voluto celebrare la ricorrenza condividendo con i tegianesi e valdianesi provenienti dall'Italia il momento di festa per ripercorrere questi decenni che hanno visto i nostri concittadini attraversare anche momenti brutti e dolorosi come il crollo delle Torri Gemelle che purtroppo tra le vittime conta anche quattro cittadini valdianesi tra cui Cono Gallo della comunità di Teggiano. A raggiungere New York per la festa ha anche una rappresentanza della Banca Montepruno con il direttore generale Michele Albanese il vicepresidente Antonio Ciniello e il direttore della filiale di Teggiano Alfiero Albanese. Giorni di feste e di preghiera a New York per questo viaggio nella Grande Mela in cui si sono ritrovati in tanti per l'anniversario che dimostra il profondo legame dei tegianesi emigrati in America per la loro terra natia e che continua di generazione in generazione a mantenere saldo e vivo anche la devozione verso il Santo Patrono San Cono. All'arrivo a New York i vertici della Banca Montepruno e tegianesi presenti sono stati accolti con una serata di festa presso la sede del Club San Cono dove il direttore generale dell'Istituto di Credito Michele Albanese ha ricevuto una targa di apprezzamento per aver voluto partecipare all'anniversario dell'associazione. Ogni volta che ritorno in mezzo a voi ha dichiarato nel suo intervento il direttore generale della BCC Montepruno è come far ritorno a casa mia. Voi per me rappresentate la mia famiglia oltreoceano e vi assicuro che la mia gratitudine nei vostri confronti è immensa. Il Club San Cono di New York ha sempre dimostrato grande attenzione ed affetto nei miei confronti e della Banca Montepruno. Sono state numerose le dimostrazioni che mi avete dato ha ricordato ogni qual volta sono stato accolto da voi negli USA. Ricordo ancora con estrema emozione il giorno in cui fu installata dinanzi alla vostra sede qui a New York una stele donata dalla nostra banca in memoria dei quattro cittadini originari del Vallo di Diano che morirono nel crollo delle torri gemelle tra cui Cono Gallo della comunità di Teggiano. Questo rapporto mi inorgoglisce e mi permette di sentire molto più vicini i nostri amici americani che vivono lontani. Per la ricorrenza la BCC ha voluto omaggiare il club di una targa in ricordo dell'anniversario realizzata in ceramica di vetri sul mare e consegnata al presidente del club Rocco Manzolillo. La festa è poi proseguita nel giorno successivo con il Gran Galà che si è svolto presso il ristorante Russo on the Bay. Andiamo ora a Sanza dal prossimo 9 ottobre al Via le attività di Bibliotechiamo servizio dopo scuola promosso dall'amministrazione comunale per aiutare gli alunni a svolgere attività educative e didattiche sotto la guida attenta di animatori. Aiutare i ragazzi a fare i compiti assegnati a scuola ma anche dare loro l'occasione di svolgere altre importanti attività come un corso di lingua inglese o un corso di decoupage e l'obiettivo di Bibliotechiamo un nuovo servizio dopo scuola promosso dall'amministrazione comunale di Sanza guidata dal sindaco Vittorio Esposito con il prezioso supporto dei volontari del servizio civile. Si punterà dunque ad aiutare gli studenti a svolgere i compiti a casa ma anche ad insegnare loro l'inglese e a decorare con la tecnica del decoupage ragazzi che saranno seguiti e accompagnati in attività ludiche e di animazione. Il servizio sarà attivo dal prossimo 9 ottobre tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30 presso la biblioteca comunale in via Valdagri. I genitori che desiderano far seguire ai propri figli le attività previste da Bibliotechiamo possono iscrivere gli alunni presso la biblioteca comunale dalle 8.30 alle 12.30. Il dopo scuola nasce su impulso dell'assessorato alle politiche sociali del comune con l'obiettivo di aiutare gli alunni a svolgere attività educative e didattiche sotto la guida attenta di animatori ma certamente anche di garantire occasioni di socializzazione. Un luogo importante è quello scelto per le attività di Bibliotechiamo la biblioteca comunale che sarà lo spazio in cui i ragazzi si ritroveranno per condividere esperienze trasformando il momento dei compiti in un lavoro collettivo e di condivisione degli argomenti. Siamo orgogliosi di questo servizio che arricchisce la nostra comunità di valori e di cultura ha sottolineato l'assessore alle politiche sociali Marianna Citera la nostra intenzione è anche quella di togliere i ragazzi dalla strada spingendoli ad innamorarsi di attività culturali finalizzate alla costruzione dello spirito di comunità e della condivisione ha concluso l'assessore Citera. Sabato pomeriggio a Castellabate sarà presentata la guida ai cetacei del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni il volume riporta i risultati di una ricerca condotta sui cetacei delle acque costiere del parco Sabato a Castellabate sarà presentata la guida ai cetacei promossa e finanziata dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni con il patrocino del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II il volume riporta i risultati di una ricerca condotta sui cetacei delle acque costiere dell'area protetta l'appuntamento è alle ore 16 a Villa Matarazzo i cetacei noti sino ad oggi per le acque del Cilento sono 5 specie alle quali si aggiungono due specie note solo per il Golfo di Salerno in totale le 7 specie rappresentano circa il 70% dell'aceto fauna stimata della regione Campania che ne conta 10 e circa il 43% di quella italiana il convegno di sabato si aprirà con il benvenuto del presidente Giuseppe Coccorullo seguiranno i saluti di diversi rappresentanti delle istituzioni e saranno presenti esperti del settore che parleranno proprio dei cetacei delle acque del Cilento chi sono e come riconoscerli se è possibile stabilirne l'origine geografica che età hanno e sarà illustrato il monitoraggio dei cetacei nelle acque del parco sempre sabato sarà inoltre presentato il nuovo allestimento museale dedicato al rarissimo esemplare di Cogia spiaggiato sulle coste del parco ad Agropoli siamo giunti al termine del nostro telegiornale grazie per essere stati con noi arrivederci di Cogia spiaggiato